Si è risparmiato pure una doccia, allora andiamo a rivedere quello che è accaduto nei 90 minuti che premiano il suo Genoa, nuovo campione d'Italia under 18, Genoa già vicino al gol con Eccator nel corso del primo tempo, primo tempo iniziato in sofferenza e poi in costante crescendo il colpo di testa di Desseri che prova a bissare la rete in semifinale contro l'Inter, la Roma si vede meno, si vede poco, destro di Mirra che non sorprende, consiglio a differenza invece di quanto avviene dalla parte opposta, primo e unico minuto di recupero del primo tempo, il destro di Venturino per distacco il miglior giocatore dei Rosso-Blu in questa Final Four, conclusione della distanza sulla quale Keaiov va in difficoltà, si chiude sull'1-0 per il Genoa, il primo tempo la Roma che cambia subito con l'ingresso di Litti che ha sul destro la prima palla-gol della ripresa, pallone forse anche deviato da consiglio oltre la propria traversa, ancora Litti, fermato dall'uscita coraggiosa di consiglio poi prima Nardozzi e poi Solbes non trovano sotto misura a porta vuota il tocco risolutivo, è un Genoa più costretto a difendere, ancora Solbes ad ispirare Ivkovic, anche lui è entrato dalla panchina, destro che sale troppo in quota, sono già tre le opportunità dilapidate dalla Roma, inizia a preoccuparsi il ruotolo che capisce che forse è il momento di affidarsi a giocatori più freschi per blindare la vittoria, colpo di testa di Nardozzi, altra parata da parte di consiglio, un secondo tempo decisamente diverso, la parte opposta Venturino va ad un passo dalla doppietta, riesce in qualche maniera Keaiov a neutralizzare la sua conclusione, l'ultima chance è enorme per le VAC, per la Roma, ma consiglio ha deciso che questa deve essere la sua serata, preserva l'1-0, Tanri Vermis, tecnico gelorosso, forse inizia a vedere l'epilogo della partita che si materializza nel fallo da rigore di Della Rocca nei confronti di Grossi dal dischetto romano e glaciale a 8 dalla fine, nel Genoa trova il gol del BIS che è anche il punto esclamativo sulla conquista della finale e di un titolo under 18, il secondo nella storia del Griffone, dopo quello del 2021, anche in questo caso nel segno di Gennaro Ruotolo.